salve a tutti in questo video vediamo come completare la missione mangia tre scatolette di cibo nel livello rapide nell'acquedotto di kirby e la terra perduta la prima scatoletta la troviamo qui dopo il primo canale dobbiamo semplicemente saltare qua sopra nell'angolo ed ecco che viene rivelato l'oggetto nascosto la prima scatoletta perfetto andiamo avanti per la seconda scatoletta bisogna prima interagire con lo switch qui poi bisogna andare a portare la scala con la boccomorfosi sotto i tronchi e ovviamente bisogna avere il potere del gelo per andare a distruggere i tronchi infuocati quindi in questo modo ed ecco fatto scatoletta di cibo presa l'ultima la troviamo da questa parte vedete intorno al vortice basta stare qui e prenderla e così abbiamo completato la missione spero di essere stato utile un saluto grazie a tutti